Il nuovo campo sportivo è stato inaugurato a Candela il nuovo campo sportivo dedicato alla figura di Mario Mitola, consigliere comunale della cittadina dei Monti Dauni, scomparso prematuramente a causa del covid nel dicembre del 2020. Una serata in cui alla gioia degli appassionati di calcio, che potranno inseguire i propri sogni nella struttura inquadrata nella cittadella dello sport, si è unito il ricordo di un uomo apprezzato da tanti, soprattutto per l'impegno nel sociale, attraverso le passioni per lo sport e la cultura. Tra i tanti presenti il sindaco di Candela, nonché presidente della provincia di Foggia, Nicola Gatta, il presidente del Comitato Puglia e della Lega Nazionale Direttanti, Vito Tisci, l'ex calciatore di Bari e Fiorentina, Pietro Maiellaro, nativo proprio di Candela, ed in rappresentanza del calcio Foggia il vice presidente Bellissario Masi ed il direttore sportivo Peppino Pavone. Alla cerimonia ha preso parte anche la famiglia di Mario Mitola, che ha ringraziato con mossa i presenti per il ricordo di un uomo appassionato, che ha sempre messo a disposizione della comunità il suo impegno e la voglia di lasciare qualcosa di bello ai giovani. Commosso anche il ricordo del sindaco Nicola Gatta, che ha evidenziato il valore umano di un uomo che ha dato tanto alla comunità candelese. Questo impianto viene intitolato a un consigliere comunale, ad un uomo che si è speso per il sociale, si è speso per l'attività agonistica, l'attività sportiva, quindi un grande segnale di ripartenza non solo per Candela ma per tutto il territorio di Capitanata. Durante la serata Masi e Pavone hanno anticipato che l'impianto sarà nel prossimo futuro sede delle attività del Foggia, con il direttore sportivo che ha ricordato il lavoro svolto su quel campo negli anni 90 ai tempi di Zemanlandia. Una collaborazione che vedrà protagonista soprattutto la società del Maroso Candela, come confermato dalla dirigenza del club. Sicuramente a Candela, come Maroso Candela, inizieremo un nuovo percorso e sicuramente faremo delle cose molto molto belle. Soddisfazione per l'opera è stata espressa anche dal presidente del Comitato Puglia della Lega Nazionale Direttanti, Vito Tisci, che a margine dell'evento si è soffermato anche sul momento del calcio foggiano. Sì, è un momento positivo per l'appoggio di Foggia, il Cerignola al terzo anno è riuscito a salire direttamente con quattro giornate antici al campionato di Serie C, un progetto diciamo ben strutturato. Oggi sono qui per questa inaugurazione, una giornata di festa qui a Candela per questo impianto che viene messo a disposizione della città, dei propri ragazzi, dei giovani per la loro crescita, per il loro divertimento e soprattutto per la loro formazione secondo i valori fondamentali dello sport. Grazie. 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 Grazie.